Ok, vai. Siamo al secondo giorno di presidio, in realtà il quarto perché si è iniziato un po' sabato. Siamo qua perché vogliamo contrastare quest'opera che tutti i tecnici che sono venuti qua a Genova al dibattito pubblico hanno definito inutile, che non si ripagherà se non in mille anni. E tanti altri medici hanno definito dannosa, noi anche la riteniamo dannosa per la salute, soprattutto è quello che ci preoccupa di più, in più essendo inutile e costerà circa 4 miliardi di euro, tra i 4 e i 6 miliardi di euro, riteniamo che dobbiamo difendere anche la comunità da questi pensieri folli. E quindi siamo qua a presidiare questo posto che per noi ha un valore sia politico che simbolico come cittadini perché è un luogo in cui è stata posizionata una trivella, in una zona privata, senza chiedere permessi alle persone che in qualche modo sono i proprietari di questa strada. E quindi questo dà già un antipasto di quella che saranno poi il rispetto e la tutela dei cittadini nei pensieri che loro hanno per queste zone, ma in generale per Genova. Ok, fino a quando continuerà? Noi continueremo finché non prenderanno la trivella e se la riporteranno a un deposito, l'idea è questa. Poi vedremo le nostre forze fino a che punto arriveranno, perché comunque siamo cittadini comuni, che lavorano, che hanno delle famiglie, però abbiamo scelto qua come baluardo, diciamo questo. Ok, tu sei? Io sono Paolo Putti, faccio parte del coordinamento dei comitati Antigronda. Perfetto, grazie.